Lui moriva dalla voglia di parlare, da dietro faceva lui, lui, lui e niente, adesso una cosa tanto la direi. No, vorrei ringraziare a tutti veramente perché siete importantissimi per noi in campo, l'ultimo partito in Champions ha dimostrato questo, che i tifosi erano caldissimi quindi hai spinto tantissime squadre e continuate così che sicuramente noi in campo daremo i mille per mille.